L'ultima sua intervista sui misteri e sugli studi dell'universo è uscita alcuni giorni fa sul Geo Magazine, una prestigiosa rivista tedesca che dà voci ai scienziati. L'intervista sui biquineri è stata rilasciata da Violetta Impellezzieri, un'altra eccellenza della quale la città di Alcamo va a fiera. Un importante evento attende alla brava Violetta, l'evento più importante nella vita di una donna. Infatti il prossimo 5 agosto, questa è la data prevista, Violetta diventerà mamma per la seconda volta. Il lieto evento in una clinica di Santiago, capitale del centro urbano più importante del Cile, dove la scienziata alcamese vive col marito uno scienziato francese. Già la mamma e il papà di Violetta hanno preso l'aereo per recarsi in Cile ad assistere al lieto evento. Auguri Violetta, diventata famosa nel 2008, quando scoprì per prima l'acqua su una galassia di 11 miliardi di anni fa. Tanti sacrifici e tanti studi, ma tantissima la soddisfazione per Violetta, corteggiata spesso dai più importanti massimiti del mondo, a cominciare dalla CNN. Violetta fa parte dell'equipe di dieci scienziati che scrutano l'universo dal più grande telescopio del mondo, dall'osservatorio ALMA che si trova in Cile. Violetta, donna delle stelle, studia i buchi neri ed è sempre disponibile a mettere a disposizione il suo sapere per i giovani. Ricordiamo che lo scorso 3 marzo dialogò in videoconferenza dal deserto di Atacama, dove si trovano i più grandi telescopi del mondo, con gli studenti all'istituto tecnico di Alcamo, rispondendo alle domande dei giovani e dei presenti, con chiarezza e nonostante la complessità della materia trattata. Il collegamento in videoconferenza su iniziativa dalla sezione di Alcamo dell'Uni3, l'università della terza età. Violetta ama il mare, ma non quello freddo degli oceani che bagnano le coste cilene, ma quello chiaro e caldo della Sicilia. E spera di poter tornare presto sulla spiaggia di Alcamo Manina con un componente in più della sua famiglia che metterà il mondo entro il prossimo 5 agosto. Auguri a Violetta, alla sua bella famiglia e ai nonni partiti ieri da Alcamo e già su un aereo diretto a Santiago e che trepidano per questo lieto evento.